Benvenuti e bentornati a tutti al quarto appuntamento con il Teatro della Scienza e della Filosofia, sezione del Futuro 2016, dedicata all'incontro con i grandi nomi della ricerca scientifica e filosofica, per l'appunto, e all'approfondimento di quelle tematiche che ci auguriamo, nello stesso spirito che anima tutto il festival, consentano di offrirvi uno sguardo sul nostro futuro e su quello dell'evoluzione della conoscenza tutta. Durante i precedenti incontri abbiamo parlato di cervello con il professor Rizzolatti e insieme al professor Edoardo Bencinelli e Corrado Senigaglia. Ci siamo occupati di OGM, gli organismi geneticamente modificati con il professor De Fez, e di paleoantropologia, l'origine dell'uomo o della specie uomo, con Giorgio Manzi. Con l'ospite di oggi entriamo invece, finalmente direi io, nel campo del futuribile, vero e proprio. Non parliamo ovviamente di previsioni magiche o di preveggenza, lasciamo queste cose a altre persone, ma di previsione scientifica e del modo in cui la scienza fa affermazioni sull'evoluzione dei fenomeni e cosa ben più difficile sull'evoluzione dei sistemi complessi, quali potrebbero essere ambiente e economia. Quindi vado subito a presentare l'ospite di oggi. Scusate ancora un attimo, trovo la bio del professor Labini. Francesco Silo Slabini. Va bene, facciamo voce perché se no facciamo notte. Il professor Francesco Silo Slabini, dell'Istituto Enrico Fermi di Roma, ricercatore di sistemi complessi appunto a Roma, scrive su molte testate, è autore di molti blog, ricordiamo quello su Fatto Quotidiano, e è il responsabile di autore del ROAS, il Research for Academic... no, Return on Academic Research, scusatemi che è un portale molto seguito. Va bene, ci siamo, ed è autore del libro che ci presenterà oggi, e appunto, come potete vedere, Rischi e previsioni, cosa può dirci la scienza sulla crisi. Do la parola, scusate per l'attesa, mi sono perso l'abbio del professore, e do direttamente la parola al professore. Un attimo, se il professore è d'accordo, lasceremo dieci minuti poi alla fine per le domande al pubblico. Grazie. Allora, buonasera e grazie per l'invito. Vi racconterò un pochettino questo libro che si chiama Rischi e previsione, che è stato pubblicato in Italia dalla terza, ed è uscito contemporaneamente anche in inglese, con il titolo Science and Economic Crisis, per Springer, due mesi fa. Allora, qual è l'obiettivo di questo libro? È un saggio, ma in realtà quello che ho cercato di fare è scrivere un saggio parlando di scienza e cercando di spiegare a che cosa serve la scienza, in che senso uno può imparare dei concetti dalla scienza moderna e in particolare dalla fisica moderna, visto che io sono un fisico, e in che senso questi concetti possono essere utili a capire, diciamo, quello che ci succede intorno. Molto spesso la divulgazione, per esempio, nella fisica si parla delle galassie, delle particelle elementari, eccetera, ma si tralascia appunto questo aspetto di focalizzarsi un pochettino sui concetti della scienza moderna. Allora, il libro è fatto da quattro capitoli, il primo parla delle previsioni, adesso vi faccio un rapido passaggio, il secondo capitolo parla della crisi, in che senso la crisi economica che stiamo vivendo ormai da sei anni è connessa alle previsioni, innanzitutto è connessa al fallimento delle previsioni, cioè al fallimento della comprensione dell'avvenimento della crisi, allora questo cercherò di spiegare perché c'è stato questo fallimento e come la crisi economica ha impattato sulla ricerca, sul mondo della ricerca, sulla maniera in cui la ricerca è fatta, sia a livello individuale che a livello dell'organizzazione, della struttura, della ricerca scientifica dei paesi. Questo è chiaramente un tema cruciale, proprio per il fatto che la ricerca in senso lato, non solamente la ricerca scientifica, ma la ricerca accademica, è un po' il motore dell'innovazione, da dove vengono le idee nuove, vengono molto spesso da quell'ambito lì. Allora, un'organizzazione cattiva della ricerca, sia a livello di un paese, che anche in termini di stimolo al singolo ricercatore, può soffocare l'innovazione. E questo è un problema chiaramente molto importante perché le energie, in qualche modo, che potrebbero dare dell'impulso per superare questa fase in cui ci troviamo, in realtà non vengono valorizzate, ma vengono soffocate. E alla fine quindi parlerò proprio di politica, sempre di politica scientifica, cioè di come innanzitutto come le scoperte della ricerca fondamentale si trasformano in innovazione tecnologica. Perché su questo c'è sempre un dibattito abbastanza fuorviante, secondo me, si parla sempre di scienza applicata, scienza fondamentale, quando invece la scienza, cioè la scienza fatta bene è la scienza fatta male. Ora, dalla scienza fatta bene può nascere anche un'innovazione tecnologica se chiaramente c'è un mondo imprenditoriale, produttivo, che ha interesse nel spingere questa trasformazione. E quindi parlerò anche di come la politica scientifica e dell'innovazione sia cruciale nei paesi più avanzati e di come l'Europa si sta muovendo in questo ambito. Quindi sono tanti temi diversi. Il filo conduttore in qualche modo è, come vi dicevo prima, la divulgazione scientifica, anche se magari a prima vista non sembra. Allora, innanzitutto partiamo quindi, adesso vi illustrerò chiaramente una parte, perché il libro è abbastanza complesso, per usare una parola che mi piace, e quindi vi racconterò una parte del libro. In particolare, il primo capitolo e poi vi darò una scorsa sull'ultimo, anzi, il primo, il secondo e poi l'ultimo. Allora, le previsioni. Le previsioni nella scienza sono utilizzate, sono storicamente utilizzate, sono un pilastro, per fare un test delle teorie scientifiche. Uno vuole capire se ha fatto un modello e questo modello alla fine viene confrontato con i dati. Allora, per esempio, questo qui è stato un grande successo della teoria newtoniana, la scoperta di Nettuno, grazie alle anomalie orbitali di Urano, ovvero uno osservava il moto nel cielo del pianeta Urano, vedeva che era un po' anomalo rispetto a quello che si sarebbe dovuto osservare se la teoria di Newton fosse corretta e allora c'erano due possibilità, o la teoria di Newton era sbagliata o c'era qualcosa che perturbava la posizione del pianeta Urano e in effetti andando avanti su questa seconda strada diceva, supponiamo che c'è un oggetto che perturba la posizione di Urano dove sta questo oggetto, quanto è grande, eccetera, uno può fare una previsione e sono andati poi con il telescopio a osservare diciamo questo oggetto e lo hanno trovato e questa è stata la scoperta di Nettuno che nell'Ottocento diciamo è stato il culmine probabilmente della gravitazione newtoniana. Insieme a questo c'è stata anche una crisi di questa teoria avvenuta diciamo sempre nell'Ottocento e riguardava invece l'anomalia del moto di Mercurio. Anche Mercurio aveva un'anomalia orbitale. Adesso non vi spiego quale insomma uno osservava la posizione di Mercurio e diciamo la posizione non tornava con quello che uno si sarebbe aspettato in base alla teoria di Newton. Allora anche qui è stata fatta un'ipotesi diciamo supponiamo che dentro l'orbita di Mercurio ci sia un altro pianeta che ne influenza la posizione questo pianeta non è stato mai trovato e la spiegazione alla anomalia di Mercurio è stata poi data da Einstein con la relatività generale che cambia diciamo la maniera di intendere lo spazio il tempo e di cui abbiamo visto recentemente anche con i nuovi risultati delle onde gravitazionali un'altra verifica sperimentale molto interessante. Allora cosa ci insegna questa storia? Allora innanzitutto ci insegna una cosa importante cioè come si sviluppano le idee allora le idee si sviluppano così almeno in fisica diciamo questo è quello che uno osservando quello che è successo può deturre c'è una conoscenza più o meno stazionaria nel senso che uno lavora sotto un certo paradigma a un certo punto succede qualcosa che mette in crisi il paradigma per esempio delle anomalie eccetera e poi c'è un salto con l'introduzione di un nuovo paradigma appunto il superamento del teore di Newton con la teore di Einstein eccetera che ne permette appunto il superamento tutto questo diciamo processo adesso ma la faccio breve ovviamente di fondo c'è la previsione che gioca appunto il ruolo cruciale di guidare la direzione verso quale la scienza va avanti allora che la previsione fosse al centro del processo scientifico è per esempio illustrato in questo dialogo non si sa se è reale ma diciamo plausibilmente è reale tra Laplace che era un matematico astronomo e Napoleone Napoleone dice a Laplace cittadino ho letto il vostro libro e non capisco come mai non abbiate lasciato spazio alle azioni del creatore e Laplace risponde cittadino primo console non ho avuto bisogno di questa ipotesi e Napoleone ribatte ah questa è un'assunzione bellissima che spiega molte cose questa ipotesi risponde Laplace si respiega tutto ma non permette di prevedere nulla come studioso è mio dovere portare lavori che permettano di fare previsioni quindi questo illustra diciamo la previsione nell'ambito scientifico ora se ci facciamo un passo successivo e pensiamo non so alle previsioni del tempo alle previsioni dei terremoti o alle previsioni non so di come si diffondono le malattie le previsioni delle maree le previsioni delle eruzioni dei vulcani questi sono altri ambiti in cui che cosa succede uno da per assodato che conosce le leggi fisiche che stanno dietro questi fenomeni e cerca di diciamo elaborare delle previsioni che sono su sistemi complessi complessi perché appunto uno vuole fare una previsione diciamo per un certo istante per un certo punto per un certo istante di tempo per un certo luogo nello spazio per esempio piove tra un'ora o non piove tra un'ora questa qui è la domanda questo non è che se piove non piove allora la teoria che sta dietro è sbagliata uno non fa questo tipo di deduzione il problema è che tra la teoria e la previsione ultima ci sono tanti passi inferenziali che uno deve sapere svolgere allora uno questo lasciamo lo stare allora per esempio per le previsioni meteo noi sappiamo quali sono le leggi che governano l'atmosfera sono le leggi della dinamica e della termodinamica sono sei equazioni e sei incognite il problema è che noi abbiamo quelle equazioni là le risolviamo le risolviamo su una sfera per esempio che è il mondo lo dividiamo in cellette e quindi avendo una fotografia dello stato di oggi mettiamo dentro il computer questa fotografia che è la nostra condizione iniziale e vediamo come il sistema si evolve domani il problema è che il sistema non è così semplice perché ci sono tanti effetti secondari che non sono descritti diciamo da quelle equazioni e che uno deve parametrizzare e per esempio come si trasforma i vari tipi di pioggia i vari tipi di neve insomma una serie di oppure come l'influenza della radiazione solare eccetera eccetera quindi quello che è successo questo qui è è l'evoluzione della precisione nelle previsioni meteo su scale diciamo di circa 50-100 km questo grafico significa che dall'80 al 2011 c'è stato un miglioramento di circa tre giorni cioè la previsione a tre giorni è migliorata l'evoluzione a tre giorni di oggi ha una probabilità di essere corretta diciamo del 98% quasi questo progresso com'è stato possibile? Beh da una parte queste qui sono le immagini dei satelliti da una parte uno ha migliorato la possibilità di avere delle condizioni iniziali molto precise perché prima uno aveva le stazioni meteo adesso c'è delle immagini satellitari che sono aumentate di risoluzione poi ha aumentato la potenza di calcolo quindi la precisione numerica di questi modelli e questo ha dato una migliore predicibilità nel breve periodo però di nuovo uno si deve domandare a che scale a scale di qualche decina se non centinaia di chilometri questo significa che la precisione con cui viene predetto un temporale qua tra dieci minuti non è cambiata tanto rispetto a vent'anni fa questo tipo di previsione è molto difficile perché l'atmosfera è caotica questo qui per esempio quei due grafici da spaghetti mostrano come sono diverse previsioni partono dallo stesso dato iniziale poi a seconda di varie condizioni che ci sono l'atmosfera può essere più o meno caotica caotica significa che c'è una dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali quindi a seconda di quanto è caotica l'atmosfera in quel momento la previsione è più o meno affidabile e quindi questo è diciamo il concetto base è che nelle previsioni medio abbiamo migliorato la possibilità di fare previsioni nel breve periodo due o tre giorni su scale di qualche decina di chilometri per i terremoti la situazione è molto diversa perché per i terremoti che cosa sappiamo innanzitutto sappiamo qual è la legge dinamica che c'è dietro la legge dinamica è l'elasticità cioè questa qui è una sfera che viene deformata per una pressione elastica non c'è non c'è più di questo in realtà da un punto di vista delle leggi della fisica fondamentale allora quello che succede è illustrato in questo grafico ci sono due faglie due blocchi che si muovono uno rispetto all'altro accumulano energia potenziale grazie a questo movimento quando l'energia potenziale arriva oltre una certa soglia arriva un terremoto e questa energia viene messa nella forma di onde o sismiche e quindi il sistema ritorna nello stato iniziale questo è in realtà quello che uno vorrebbe quello che in realtà è che il sistema si ripete ma non in maniera periodica quindi il problema della previsione dei terremoti è il fatto che noi non abbiamo accesso alle condizioni del sistema a 50 km sotto terra e questo diciamo ci preclude il fatto di fare delle previsioni a breve scadenza sui terremoti ormai tutti sono d'accordo sul fatto tutti i geologici sono d'accordo sul fatto che le previsioni sui terremoti non sono possibili c'è stato un terremoto in Giappone non so se vi ricordate qualche anno fa che è stato il secondo terremoto più violento che ci sia mai stato e nessuno lo aveva previsto che ci fosse un terremoto in quel momento in quel posto proprio per il fatto che uno non può conoscere le condizioni del sistema quello che uno può fare però è in qualche senso una previsione su un tempo scala molto lungo cioè una volta che uno identifica le faglie le zone sismiche allora uno può dire che in quella regione sicuramente entro 50 anni 100 anni eccetera ci sarà un terremoto questo si può dire però appunto è una previsione che non riguarda il comportamento delle persone domani o dopo domani come per esempio il caso dell'Aquila che voi tutti conoscerete nel senso che è difficile dire allora domani che succede non si sa però sicuramente se uno sa che c'è una zona sismica e che entro non so 20-30 anni ci sarà un terremoto quindi che cosa fa costruisce antisismico per i vulcani invece la situazione è un po' differente per i vulcani uno può avere dei segnali prima che l'eruzione vulcanica abbia luogo e quindi può in qualche modo allertare la popolazione adesso passiamo a un altro tipo di previsioni che sono quelle diciamo che riguardano l'economia questo è un tweet dell'economist in cui si dice un lettore suggerisce ma se gli economisti sono scienziati forse dovremmo trattarli in maniera in quella maniera come sono stati trattati gli scienziati lui si riferisce al fatto che c'erano stati vari sismologi italiani che erano stati processati per non aver previsto un terremoto nell'Aquila in realtà c'è una grande disinformazione su questo punto i sismologi non sono stati processati per quello i sismologi sono stati processati per aver diffuso informazioni scientificamente infondate comunque questa è la vulgata insomma qui c'è un problema se questi sono scienziati a un certo punto uno deve fare i conti col fatto che le previsioni non sono corrette c'è un grande dibattito nel campo dell'economia questi sono vari titoli a cui hanno preso parte economisti come Krugman come Lucas eccetera allora come la vedono gli economisti ma la vedono più o meno come la vedono per esempio i fisici dice vabbè uno fa delle assunzioni in un modello queste assunzioni possono anche non essere tanto realistiche l'importante è che funzionino come fanno a funzionare se uno poi da questi modelli è capace di fare delle previsioni giuste addirittura c'è Luigi Zingales che è un economista italiano che dice vabbè insomma la storia della fisica nella prima metà del ventesimo secolo è stata straordinaria come lo sviluppo della finanza nella seconda metà addirittura io sono un fisico e dico wow andiamo a vedere di che si tratta quindi andiamo a vedere le previsioni allora innanzitutto cosa sono le leggi le leggi della fisica sono universali e immutabili significa che valgono diciamo qui oggi come in qualsiasi altro punto dello spazio e del tempo nell'universo sono sempre le stesse o almeno questa è l'assunzione che uno fa poi possono essere di vario tipo si possono conoscere non conoscere possono essere probabilistiche eccetera ma quali sono le leggi dell'economia già qui c'è un problema perché chiaramente le leggi dell'economia sono leggi universali beh non sembrerebbe sono leggi immutabili anche quello non sembrerebbe perché se uno pensa a 50 anni fa oppure ai paesi del terzo mondo le cose non è che vanno esattamente come a noi comunque questo è un problema diciamo di fondo il problema sulle previsioni in economia è ben esemplificato dalla domanda della regina d'Inghilterra che subito nel 2008 quando subito dopo il fallimento dell'Eman Brothers andò all'Hondo School of Economics che è un pochettino la scuola più importante l'istituzione più importante per l'economia in Europa probabilmente e semplicemente chiese why did nobody notice it perché nessuno l'ha visto perché nessuno di voi che siete tanto bravi ha visto arrivare la crisi economica e questi sono rimasti un pochettino senza parole c'è stato poi un grande dibattito questo qui è uno studio di due economisti del fondo monetario in cui c'è la regina che dice perché nessuno l'ha visto arrivare e lui risponde questo è il decano della London School of Economics madame se qualcuno di noi l'aveste visto arrivare avrebbe rovinato il nostro record perfetto di fallire sempre le previsioni perché infatti il fallimento delle previsioni non è solo per la crisi del 2008 quello è l'apoteosi del fallimento cioè è una cosa talmente gigante che dice vabbè ok ragazzi ma qui c'è un problema perché il sistema economico non è come i terremoti neanche i terremoti lo sanno prevedere certo ma i terremoti uno non ha le informazioni nel sistema economico le informazioni ci sono casomai ce ne sono troppe nel senso che uno deve essere capace a capire quali sono le informazioni rilevanti però i numeri si conoscono per esempio questo è già uno studio delle previsioni tra l'88 e il 98 solamente due su 60 recessioni sono state previste con un anno anticipo nelle previsioni tra il 2008 e il 2012 anche qui c'è stato un fallimento loro dicono fail again fail better non solo fallisci di nuovo ma fallisci pure meglio nel senso che veramente uno ha fatto un record nell'essere incapace a prevedere qualsiasi cosa queste qui sono il numero di recessioni predette l'aprile dell'anno prima praticamente sulla sinistra quelle che sono avvenute e sulla destra quelle che sono state previste quindi zero praticamente e questo non solo dal fondo umanitario ma anche da quello che si chiama il consensus economics che sarebbero gli analisti economici finanziari e dall'Ocse tutti e tre dicono lo stesso risultato quindi non è che una persona è tutto un sistema che sta sbagliando completamente strada e questo è un altro esempio economic model dice qui c'è un problema questi dicono c'è un problema nella previsione della crisi vedete che lì è la crisi nel 2008 che va giù e invece tutti quanti prevedevano che andava dritto diciamo quindi c'è un grande problema se uno vede le previsioni del fondo umanitario queste sono ancora più divertenti perché la previsione diciamo partendo dalla sinistra quindi quella azzurrina quell'altra eccetera la nera è quello che succede la previsione della crescita è sempre tra sei mesi loro dicono sempre così e poi però continua ad andare giù chiaramente il fondo umanitario ha finalità politiche beh pure non è solamente tecnico il governo siamo sicuri che ha finalità politiche e dice sempre che cresce e invece non cresce ma questo chiaramente uno lo può anche mettere in conto la confindustria ci avverte che se vincerà il no alla riforma costituzionale ci sarà un calo del 4% del PIL una perdita di 600 mila posti di lavoro il 17% degli investimenti e più 430 mila poveri anche questo sono fatti con dei modelli semplicemente ridicoli che secondo me uno si deve vergognare a pubblicare una roba del genere allora ma qual è il problema perché sbagliano sempre sbagliano sempre lo spiega bene Robert Lucas che è uno dei luminari del campo premio Nobel per l'economia lui dice in questa presidenzial address del 2003 lui dice la mia tesi in questa lezione è che la macroeconomia ha avuto successo e il problema centrale della prevenzione delle depressioni è stato risolto per tutti i problemi pratici per molti decenni e poi quando è successa la crisi che cosa dice lui dice innanzitutto quando il sistema inizierà a scricchiolare nel 2007 lui dice vabbè io sono scettico che la crisi che il problema dei muti subprime negli Stati Uniti si propagerà nel mercato e che ci sarà che la costruzione delle case subirà uno stop e che l'economia subirà una recessione se c'è una cosa che abbiamo capito negli ultimi vent'anni è che c'è molta stabilità nell'economia cioè questo è il concetto chiave loro credono che l'economia sia stabile sia all'equilibrio e quindi che ogni tipo di perturbazione fallisce l'Allemann Brothers se c'è una crisi eccetera qualsiasi perturbazione comunque dopo un po' venga assorbita dal sistema perché il sistema sta all'equilibrio poi però nel 2009 ha cambiato un pochettino tesi e dice la crisi economica non è stata prevista perché la teoria economica predice che questi eventi non possono essere predetti che in realtà è vero che un po' è così ma non è tutto così il rosso l'ho aggiunto io cioè la crisi non è stata prevista perché la teoria economica neoclassica che è una teoria economica assume che questi eventi non possono avvenire perché li assume perché il sistema sta all'equilibrio quindi se sta all'equilibrio non si può rompere e dunque non possono essere previsti dunque questa è una conseguenza ovvia è una teoria che non ha nulla a che fare con la realtà quindi il concetto di fondo è l'equilibrio allora da fisico dice ok andiamo a vedere qual è il concetto che loro hanno di equilibrio perché ci deve essere qualcosa dietro l'equilibrio può essere instabile o stabile stabile se la pallina sta in fondo alla valle instabile se la pallina sta in cima alla montagna perché quando è stabile significa che uno gli dà una perturbazione la pallina lì era e li rimane fa un po' così e torna lì se uno dà una schiccheretta a una pallina in cima alla montagna la pallina cade giù quindi non è tanto focalizzarsi sul fatto sulla schicchera ma è capire se il sistema sta vicino a una situazione di equilibrio stabile o instabile e questo è il problema che loro non si pongono loro dicono ma io che ne potevo sapere che crollava le Man Brothers ma quello nessuno lo poteva sapere non è quello il punto il punto è capire se poi il sistema diciamo stando vicino a una situazione di instabilità si rompe del tutto o meno quindi diciamo se uno ha un equilibrio del genere sta in una situazione di instabilità ok loro invece pensano che le fluttuazioni diciamo importanti siano quelle lì esogene cioè che vengano da fuori non so una guerra una tromba d'aria un terremoto una catastrofe allora queste qui sono le fluttuazioni che fanno cambiare il sistema e non contemplano la possibilità che sia il sistema stesso che generi quelle fluttuazioni per capire questo però effettivamente ci vuole un passaggio importante nel libro c'è un capitolo che si chiama cent'anni di solitudine perché se io mi leggo diciamo quello che in generale pensano come vedono il sistema e questi economisti mi sembra che abbiano perso cent'anni diciamo di concetti allora uno dei concetti principali è more is different il più è differente questo è stato messo diciamo è stato concettualizzato da Phil Anderson che è un prenoble per la fisica della fine degli anni 70 dice la realtà ha una struttura gerarchica e ogni livello della gerarchia è necessario introdurre concetti e idee diversi da quelli utilizzati nel livello precedente cioè questo significa che la fisica ha sempre cercato la via riduzionista cioè dice io scompongo scompongo e alla fine troverò le forze fondamentali una volta che ho capito quelle posso spiegarmi tutto in realtà questo progetto è fallito noi prendiamo i mattoni i mattoni sono composti da molecole da atomi da particelle elementari eccetera la fisica è andata in quella direzione però un palazzo rinascimentale non si spiega sapendo le forze fondamentali cioè questo è chiaramente un esempio forzato però anche un sistema complesso fisico senza che nessuno lo abbia progettato per esempio la superconduttità a alta temperatura uno deve introdurre dei concetti nuovi che riguardano il comportamento collettivo allora che cos'è i sistemi complessi studiano i comportamenti emergenti e collettivi dei sistemi composti da un grande numero di elementi interagenti tra di loro la parola chiave qui è interagenti cioè quando ci sono delle interazioni si sviluppano dei comportamenti non banali che non sono predecibili dalla conoscenza dei singoli elementi perché non sono dovuti ai singoli elementi ma sono dovuti all'interazione tra di loro allora facciamo un esempio ecco questo qui per esempio non so se avete mai visto a Roma al tramonto verso autunno si vedono questi stormi di uccelli che fanno queste incredibili forme perché gli uccelli fanno queste cose qui perché ognuno si muove guardando quello che fa il suo vicino e quindi si regola in base a quello solamente con questo tipo di interazione che è molto semplice tra primi vicini gli uccelli fanno questo tipo di forma questi sono sistemi molto studiati in fisica da meno appunto dalla fine della guerra in poi anche prima allora in questi sistemi il concetto stesso di equilibrio in realtà perde senso perché uno può avere che c'è un minimo l'equilibrio è un minimo di qualche funzione è una buca questa buca può essere può cambiare nel tempo può essere può essere che ce ne sono tante quindi il sistema può andare da una buca a un'altra insomma uno deve non deve concentrarsi sull'equilibrio ma deve capire come il sistema ci va quindi deve andare a vedere la dinamica che c'è dietro invece nell'economia neoclassica la dinamica non c'è chiaramente non è che io sia il primo a dire queste cose c'è un grande un grande dibattito a livello internazionale le previsioni sono possibili se avete visto questo film che è un bellissimo film La grande scommessa questo parla di alcuni broker che avevano previsto la crisi questi l'avevano previsti perché invece di fidarsi dei modelli teorici erano andati là a vedere chi è andato a vedere la situazione di queste case nelle new town della Florida se riuscivano a pagare il mutuo per esempio chi invece aveva visto gli andamenti dei prezzi di borsa eccetera con occhi diciamo che questi non sono ideologici sono molto pragmatici visto che devono comunque guadagnare soldi invece ci sono stati anche degli economisti che hanno predetto la global financial crisis qui c'è tutto una serie diciamo chiaramente sono quelli che non assumono l'equilibrio quindi non si tratta di economisti neoclassici tra i quali permettetemi di menzionare mio padre che nel 2003 aveva scritto esattamente Lucas scriveva che il problema centrale della depressione era stato risolto mio padre diceva dalmeno due anni ho visto rassomiglianze con la situazione che si è determinata in America negli anni 20 del secolo scorso e poi spiega perché ovviamente infatti si può dire che la previsione di questo tipo qui è stata possibile in cui non dice al 15 settembre del 2008 cade le Lehman Brothers dice il sistema per una serie di motivi tra cui alti debiti eccetera sta vicino a un punto di instabilità per cui quando arriva a un punto di instabilità è molto probabile che avvenga una crisi quindi quello che manca all'economia è come appunto dice un fisico francese in questo editoriale su Nature è che non hanno i concetti gli strumenti né per descrivere statisticamente né dinamicamente i mercati che siano dei mercati selvaggi cioè in cui le fluttuazioni possono essere molto grandi loro in qualche modo fanno delle previsioni assumendo che il tempo è sempre bello quindi gli uragani non sono contemplati quindi è chiaro che è una teoria in cui il tempo è sempre bello gli uragani non li può prevedere perché non ci stanno questo però diciamo se uno va a vedere cosa c'è dietro da un punto di vista ideologico e politico a questo tipo di impostazione diciamo scientifica perché questo dovrebbe essere è che niente se uno si fida che uno più liberalizza i mercati più il sistema va all'equilibrio questo è un pochettino la dottrina dell'agenda neoliberale cioè la crescita dei mercati finanziari avrebbe dovuto migliorare l'allocazione del rischio aumentare la competizione privatizzare le industrie statali limitare la possibilità dei governi accumulare i debiti limitare l'intervento dello Stato per la politica della ricerca dell'innovazione ora anche loro diciamo questi sono due economisti del fondo monetario adesso stanno mettendo in dubbio questo tipo di assunzioni però appunto queste politiche dietro hanno una teoria che è chiaramente a mio giudizio sconfessata dai dati ora vediamo gli ultimi dieci minuti come queste idee si sono ripercosse nelle politiche della ricerca dell'istruzione e dell'innovazione dei paesi e soprattutto dei paesi europei che ci interessano di più allora qui abbiamo detto uno dei punti è limitare l'intervento dello Stato e quindi questo ha limitato l'intervento dello Stato nei settori di innovazione e sviluppo c'era la strategia di Lisbona che è stata formulata nel marzo del 2000 secondo cui l'intento era che l'Europa sarebbe dovuta diventare una economia competitiva e dinamica basata sulla conoscenza e quindi per fare questo si sarebbe dovuto aumentare l'investimento in ricerca e sviluppo al 3% del PIL nel 2010 quello che è successo è esattamente molto diverso già nel 2010 i vari paesi senza che vi dico c'erano 4 gruppi di paesi i paesi del nord la Germania i paesi scandinavi l'Olanda i paesi dell'Europa centrale quindi la Francia l'Inghilterra l'Austria e i paesi del sud più l'Irlanda cioè Italia Spagna Portogallo Grecia Irlanda e poi i paesi dell'est che quelli ce li siamo persi dall'inizio se uno va a vedere come sono cambiate l'investimento ricerca sviluppo di questi paesi in questo decennio la Germania i paesi del nord hanno aumentato i paesi del sud hanno diminuito quindi la forbice invece di diminuire è aumentata in conseguenza della crisi per esempio l'Italia è stata uno dei pochi paesi che ha tagliato in istruzione e in ricerca e sviluppo uno dei pochi insieme all'Ungheria all'Irlanda e all'Estonia gli altri paesi invece hanno investito di più come effetto della crisi la Germania ha aumentato tantissimo ha aumentato del 70% il budget dal 2000 in ricerca e sviluppo arrivando al 3% della strategia di Lisbona in Italia abbiamo iniziato a tagliare addirittura prima del 2008 perché i tagli che sono stati fatti in Italia del 20% sono stati pensati prima della crisi sono stati approvati a giugno mentre la crisi c'è stata a settembre dal governo Berlusconi con questi tagli noi adesso siamo l'ultimo paese nell'Ocse il penultimo l'ultimo è Lussemburgo in quanto ha spesa in educazione superiore e siamo l'ultimo paese in quanto ha percentuale di laureati nella fascia di età tra 25 e 34 anni abbiamo circa la metà dei laureati della media Ocse questa è la situazione non è una cosa che è avvenuta ieri è avvenuta nel tempo ma dal 2008 questa tendenza di questa forbice è aumentata tantissimo il vero problema se uno poi va a vedere questa spesa qual è il problema il problema più grande in Italia è il fatto che la composizione della spesa in ricerca e sviluppo è molto differente dagli altri paesi perché l'impresa non investe questo è il problema perché le imprese sono piccole e medie e quindi non hanno le risorse per investire e quindi la situazione è che siamo destinati diciamo soprattutto dopo l'abbandono delle politiche di diciamo di intervento statale delle insomma delle varie industrie che era una partecipazione statale al declino le politiche dell'unione dell'europea sono ancora più incredibili queste qui sono in rosso quanto ogni stato mette nel nel budget europeo per la ricerca e in verde quanto prende allora per esempio la Germania che già ha un sistema molto ben finanziato mette 10.000 e prende 11.000 milioni di euro l'Italia mette 7.000 e prende 5.000 e lo stesso la Spagna e lo stesso la Francia allora perché succede questo perché di nuovo la politica che si fa è ispirata allo stesso tipo di politica che vediamo sotto i nostri occhi cioè aumentare disuguaglianze chi più ha più avrà perché è più forte quindi è chiaro perché perché la Germania diciamo si porta a casa per usare un'espressione tremenda più soldi dell'Italia perché c'ha tre volte i ricercatori dell'Italia per unità di popolazione e quindi per forza fanno tre volte i progetti e si prendono più soldi quindi i paesi che sono più solidi riescono a prendersi di più i paesi che sono meno solidi perdono queste sono le risorse finanziarie ma se uno vede diciamo le infrastrutture o se uno vede le persone fisiche cioè i giovani c'è un netto flusso da sud a nord che è incredibile perché dice ma così dove va a finire questo sistema qual è il piano se uno abbandona completamente i settori avanzati che cosa gli rimane fare le magliette questo è il problema allora se uno vede diciamo la politica scientifica degli Stati Uniti è nata con il progetto Manhattan quello che ha portato la bomba atomica ma insomma dopodiché è diventato anche un progetto diciamo di sviluppo della società in cui il progetto il progetto scientifico è una chiave essenziale per la nostra sicurezza come nazione per la nostra per migliorare la nostra salute per più posti di lavoro per un livello di vita più elevato e quindi quello che si sono posti gli americani era come sfruttare questo grandissimo sforzo che è stato fatto nel progetto Manhattan e trasformarlo poi in una struttura permanente che desse impulso all'innovazione tecnologica questo è Vanna Barbusha che scrive queste cose che è stato il consigliere del presidente Roosevelt è un po' quello che ha creato la politica scientifica del dopoguerra e lui dice la scienza può essere utile al benessere della nazione solo come membro di una squadra ma senza il progresso scientifico nessun progresso in altra direzione può assicurare la nostra salute e prosperità cioè la scienza chiaramente l'investimento in ricerca scientifica e innovazione è chiaramente una condizione necessaria ma non sufficiente molto spesso si sente dire ah perché l'università non prepara il mondo del lavoro ma qual è il mondo del lavoro a cui dovrebbe preparare l'università e questa è la domanda incredibile cioè il mondo del lavoro italiano è fatto e sta diventando un mondo del lavoro da paese sottosviluppato non ci sono più industria alta tecnologia per forza poi dice perché non si investe perché nessuno ha interesse a farlo le imprese non hanno bisogno di personale con alta formazione e quindi non c'è richiesta infatti la cosa incredibile è che noi non solo abbiamo la metà dei laureati degli altri paesi ma c'è anche una grandissima disoccupazione di quella metà quindi Van Busch dice pure la ricerca è un processo a lungo termine dove e quindi cessa di essere di base se i risultati sono attesi a breve termine e questo è un altro punto in cui oggigiorno ognuno di noi che fa un progetto scientifico si sente dire ah ma tra sei mesi che cosa trovi se uno fa un progetto scientifico tra sei mesi non sa che cosa trova se è un vero progetto scientifico se no così sta vendendo fumo allora qual è invece la politica scientifica italiana è esemplificata da questa famosa frase che Berlusconi disse a un giornalista proprio nel 2008 quando cioè nel 2010 in realtà con la riforma Germini dice perché il primo ministro italiano spiega perché va bene tagliare in ricerca e sviluppo e lui risponde perché dovremmo pagare uno scienziato quando facciamo le scarpe più belle del mondo e questo purtroppo lui lo dice in questa maniera un po' colorita però è quello che diciamo gran parte di Confindustria pensa non abbiamo bisogno di questo tipo di attività e di cosa invece se uno va a guardare di nuovo gli Stati Uniti che sono sempre presi come il faro di quello che bisognerebbe fare del libero mercato eccetera quello che vede sono tre cose importanti la prima è che c'è stato dall'inizio del secolo a oggi una crescita esponenziale del prodotto interno lordo per persona questo non significa che tutti hanno avuto la stessa cosa significa che c'è stato un grande sviluppo e all'interno di questo sviluppo c'è stato anche un grande aumento delle disuguaglianze soprattutto negli ultimi 30 anni ma questo è un altro discorso questo sviluppo da chi è stato trainato? è stato trainato da un grande investimento in ricerca e sviluppo e da una grande qui sugli assi ci sono investimento in ricerca e sviluppo numero di scienziati e ingegneri quelli blu sono il pallone blu sono gli Stati Uniti l'Italia è la freccia più in basso a sinistra quindi vicino al Brasile e l'Ungheria la Cina adesso sta avendo negli ultimi dieci anni ha avuto una crescita spettacolare da questo punto di vista ancora chiaramente ne ha di strada da fare però diciamo che da che costruivano prodotti a bassa intensità tecnologica adesso possiamo dire che invece è finito quell'epoca chi è che ha guidato lo sviluppo tecnologico degli Stati Uniti questa è la domanda è stata l'iniziativa privata ma pure certamente ci sono parecchie intelligenze e parecchie possibilità ma senza l'intervento dello Stato senza 40 miliardi di contributi statali all'anno di dollari non sarebbe successo nulla se uno va a vedere l'iPhone che cosa c'è qual è la tecnologia che sta qua dentro tutta la tecnologia che sta là dentro c'è un'etichetta sopra e l'etichetta è il progetto finanziato dallo Stato negli Stati Uniti o in Europa perché ci sono anche scoperte europee che ha portato a quel tipo di innovazione per esempio nel libro faccio l'esempio della magnetoresistenza gigante che è un effetto fisico grazie al quale è stato possibile ridurre la dimensione degli hard disk quindi per questo esistono i computer questo e quest'altro perché alla fine degli anni 80 hanno scoperto la maniera di miniaturizzare gli hard disk questa è stata una scoperta che in Europa ha portato due premi Nobel ma gli introiti diciamo da un punto di vista tecnologico se li sono presi gli Stati Uniti anzitutto l'IBM e poi tutto il resto e poi la Apple ovviamente perché perché loro avevano l'infrastruttura da un punto di vista dell'impresa capace di assorbire cioè la parola giusta non è ricerca applicata o ricerca fondamentale ma è ricerca e assorbimento della ricerca il fatto di avere delle persone nelle imprese che siano capaci di capire innanzitutto la scoperta perché uno si agisce un articolo scientifico non è ovvio non è che sull'articolo scientifico c'è scritto questa è il nuovo hard disk non era così uno si descriveva un effetto fisico quindi c'è qualcuno che capisca che quella roba lì può avere un impatto tecnologico importante e lo trasformi poi in una tecnologia di interesse commerciale quindi chiaramente quindi perché lo Stato che deve fare questo tipo di investimento perché lo Stato ha la pazienza e la forza per farlo nel senso che ci vuole un investimento che sia un investimento grande quindi non noccioline come a noi ma una cosa seria e d'altra parte bisogna anche aspettare i tempi lunghi perché il privato non ha interesse non ha la possibilità non ha la pazienza di aspettare i tempi lunghi per la ricerca fondamentale la Apple non fa ricerca fondamentale non lo fa la Apple utilizza le scoperte fatte nel pubblico per trasformarle in oggettini così quindi chiaramente il ruolo della mano visibile è costruire le infrastrutture che poi queste sono delle condizioni necessarie ma chiaramente non sufficienti perché non basta solo quello ovviamente ci vuole un'organizzazione della società di un sistema economico giuridico eccetera che permetta poi lo sviluppo però diciamo il rischio della ricerca rischio è l'altra parola chiave del mio libro è il motore fondamentale per l'innovazione tecnologica senza di quello non c'è cioè adesso quello che uno anche si sente dire in università eccetera che uno deve andare sul sicuro non vuole sprecare i soldi in ricerca che non hanno senso o che non si sa che cosa porteranno ma se uno va a vedere non solo la scoperta della maglia di resistenza gigante aveva senso quando l'hanno fatta oggi sì oggi lo sappiamo l'abbiamo visto eccolo qua ma quando l'hanno fatta questi due chi erano? Questi due erano due persone normalissime che facevano un lavoro in una nicchia non occupata da nessuno perché tutti pensavano che fosse una cosa che non portava da nessuna parte allora tutto il discorso sull'eccellenza bisogna premiare l'eccellenza quando si sente questo è un discorso senza senso da un punto di vista dell'innovazione tecnologica perché che cos'è oggi l'eccellenza? L'eccellenza che vediamo oggi è quella che si è formata ieri ma noi non vogliamo finanziare l'eccellenza di ieri noi vogliamo finanziare l'eccellenza di domani e chi è oggi l'eccellenza di domani? Questa è la domanda quindi il rischio nella ricerca richiede la diversificazione l'adattabilità la cooperazione e i tempi lunghi queste sono le parole quindi chiaramente il problema è come posso raggiungere il lungo periodo se non sopravvio nel breve quello che sta succedendo oggi è illustrato da questa figura mitologica di Ifigenia la figlia di Agamennone che era stata sacrificata per placare l'ira degli dei ora quello che sta succedendo è che c'è il sacrificio delle nuove generazioni sull'altare dell'austerità ma questo sta creando un problema che si ripercuoterà per i prossimi decenni è una cosa così miope assurda cioè lo stesso problema che noi vediamo all'interno dell'Italia con uno spostamento di risorse e persone dal sud al nord sta avvenendo anche in Europa dai paesi del sud ai paesi del nord è tutto un sistema che fa così ma anche in Germania all'interno della stessa Germania malgrado il sistema sia molto finanziato lo stesso si stanno creando gli squilibri giganteschi e questo è dovuto a un'ideologia di fondo che è quello appunto di accentrare le risorse su pochi poli su poche persone ma questo sta creando un grandissimo danno e come ultima slide vi cito l'ex presidente dell'università di Harvard che ha detto questa cosa se pensate che l'istruzione sia costosa provate l'ignoranza grazie grazie mille professore davvero molto interessante direi di lasciare la parola al pubblico vi chiedo però scusatemi siamo davvero con tempi strettissimi se ci sono domande non posso consentirne più di tre quattro al massimo anche il professore le chiedo magari poi potremmo proseguire lasciamo uno spazio per mettere a posto il palco possiamo proseguire poi all'entrata domande al pubblico il problema della previsione economica oltre naturalmente altri fattori può essere riconducibile al fatto innanzitutto che l'economia non è un sistema lineare al fatto che l'evoluzione è molto veloce per esempio nell'antico Egitto sicuramente era un sistema in equilibrio durato 3.000 anni però ricerca scientifica o progresso tecnologico zero e al fatto veno male che ci sia il libero arbitrio e quindi è difficile prevedere il comportamento di una persona non razionale sicuramente diciamo che tutti i sistemi che abbiamo intorno sono non lineari non è che solamente il sistema economico tutto è non lineare anche qualsiasi cosa non lineare i sistemi lineari sono solamente gli esempi che si leggono per imparare le cose sui libri di testo dopodiché certo c'è il libero arbitrio però questo il libero arbitrio non è quello il punto il punto è le condizioni macroeconomiche di un paese e queste prescindono dal libero arbitrio il libero arbitrio certo riguarda l'individuo e come si comporta l'individuo per esempio nella teoria neoclassica l'individuo è pensato essere un agente razionale che massimizza il proprio utile e sa anche come farlo e non fa mai nulla di quello che fanno gli altri invece in realtà le cose non vanno così sappiamo che c'è un'interazione e quindi appunto le crisi perché avvengono perché tutti fanno la stessa cosa poi perché ci sia panico perché ci sia la notizia è un altro discorso però l'importante è che ci sia questa correlazione dovuta all'interazione però appunto il problema è da un punto di vista macroeconomico è raggiungere quelle condizioni di criticità che poi danno luogo alla crisi allora se uno vede come si sono create queste condizioni di criticità è stato proprio con questo con questa diciamo mitologia dei mercati che si autoregolano quindi più uno liberalizza più uno privatizza più il sistema va verso l'equilibrio questa è stata semplicemente questo allora uno può uno può vedere sì sulla velocità allora uno può vedere secondo me la metafora giusta è quella dei terremoti cioè il sistema ci mette tanto tempo ad accumulare energia e poi poco tempo a rilasciarla queste sono le crisi economiche cioè quanto ci mette è un problema appunto dipende chiaramente da cosa dipende ma dalle condizioni diciamo strutturali e anche dalla legislazione perché chiaramente se uno da la possibilità di far viaggiare i capitali da un paese all'altro senza problemi eccetera eccetera se uno leva le tasse in un certo modo e così aumenta queste condizioni quindi la parte giuridica pure è una variabile importante e anche quella diciamo non è molto considerata della teoria classica altre domande signore lei ha aperto un discorso una ricerca che è importantissimo richiederebbe una discussione molto lunga però direi non sono molto d'accordo insistere molto sul problema delle risorse dedicare alla ricerca il problema più grande della ricerca secondo me è decidere cosa fare perché poi quello che è da fare poi si trova chi riesce a farlo va bene e questo i grandi paesi in Italia le assicuro si spese cifre incredibili su dei programmi assurdi con degli sprechi di risolvere enormi quindi se uno fa fare l'inchiesta di quanto è stato speso in Italia trova che in certi settori è stato speso tantissimo gli Stati Uniti si sono salvati creando tra l'altro degli obiettivi che sono fondamentali non so per esempio prima è stata la guerra poi è stato il progetto Manhattan che lei ha citato poi lo spaziale che è stato una cosa fondamentale questi hanno il grande vantaggio di determinare che cosa si deve fare dopodiché sul cosa si deve fare ci sono sempre dei tennici che riescono a farlo ed avere dei risultati diciamo così che possono riverberarsi sul mercato però scusi adesso era discussione perché effettivamente sulla ricerca bisognerebbe parlare molto ecco innanzitutto io ho trattato principalmente la ricerca di base la ricerca di base è Curiosity Driven nel senso che è guidata dalla curiosità dei ricercatori e sono loro che in qualche modo vanno a esplorare delle zone o altre quindi un'altra cosa differente sono i progetti di ricerca con finalità applicative che sono decise in maniera top down comunque il problema che in Italia non c'è nell'uno nell'altro ora un pochettino c'era e sicuramente ci sono stati sprechi come in tutte le cose pubbliche adesso si è perso completamente l'interesse verso questa attività come diceva Zingales dice l'Italia ha un futuro nel turismo ma non ha un futuro nelle biotecnologie cioè questo è quello che diciamo ci vengono a dire e purtroppo è sbagliato nel senso che se l'Italia vuole rimanere un paese diciamo sviluppato e comunque competitivo con quelli che ci troviamo intorno deve adattarsi diciamo avere un sistema sia della ricerca che dell'innovazione quindi anche una politica industriale adeguata perché altrimenti faremo la concorrenza al Bangladesh perché questa è certo certo beh di fondo infatti il problema è la politica scientifica dopodiché poi nella scienza fondamentale uno vede che malgrado le scarse risorse malgrado ci siano sprechi e tutto quanto comunque l'Italia riesce ancora a formare non solo riesce a avere dei riconoscimenti a livello internazionale non so il fatto che la matematica italiana sia quarta al mondo ma qual è il campo in cui l'Italia è quarta al mondo cioè a parte la corruzione o cose del genere niente non c'è allora quello dovrebbe essere il punto da cui ripartire per rifondare un sistema ci sarebbe anche da parlare dello human tecnopole lasciamo il discorso ultima domanda signori non può darsi che ci sia stato un cambiamento nell'organizzazione sociale del pianeta e non se ne sia accorto nessuno e questo sia la causa della crisi faccio un esempio io ho fatto una ricerca sulle previsioni delle Nazioni Unite alla libreria della facoltà di economia in Ancona e mi sono divertito moltissimo a leggere un dato del 1988 non di ieri in cui loro esaminavano il trend e l'area dell'Unione Sovietica ancora prevedeva fino al 2025 sui dati precedenti quindi era siccome succede questo se tanto da tanto succederà quest'altro questo era il criterio dunque nel 2025 la Russia era previsto che sarebbero diventati 350 milioni di abitanti poi è arrivato il computer è arrivata le previsioni elettorali i sondaggi insomma è cambiato molto e nel 2025 si prevede che saranno poco più di 110 120 milioni di abitanti e questo per dire che ci sono stati ci sono dei cambiamenti in corso che determinano cambiamenti economici di cui nessuno parla il report dell'Unicef che riguarda domani non fra 50 anni cioè nel 2030 da qui al 2030 nasceranno 750 milioni di abitanti in un'area di crisi e passa indifferente nella stampa che si occupa di niente alla fine al confronto cioè se queste parossismi sociali che poi vengono chiamate anche terrorismo o tutto quello che uno vuole eccetera in realtà sta succedendo una tempesta sociale di cui noi vediamo ogni tanto delle scottature ma poi che succederà fra dieci anni cioè se qualcuno di noi ha un figlio fra dieci anni qualcuno di noi sarà crepato magari ma questo figlio sarà nella merda scusi però un 750 milioni di abitanti in un'area quella centroafricana più o meno perché è di quell'area che si parla altro che i problemi dei migranti che abbiamo parcheggiato in Turchia non so chi lo ma io direi insomma la crisi economica è anche figlia soprattutto figlia di una crisi politica e di una crisi culturale quindi in Italia queste tre crisi che sono delle crisi internazionali si sommano a una crisi diciamo che è particolare a tutto italiana insomma allora come uscire fuori da questo è il problema ovviamente io non ho una soluzione quello che dico nel libro è che uno può trarre ispirazione dagli esempi possibili del passato e da quello che ci può insegnare la scienza e la fisica dei sistemi complessi per avere diciamo un modello dopodiché la cosa fondamentale penso è che ci vogliono idee fresche persone giovani e bisogna che siano messe in condizioni di dare un contributo grazie grazie a grazie a tutti a